Dopo l'Aquila la campagna di screening anti-Covid-19 si sposta nel Terramano con tamponi a tappeto a partire da giovedì al massimo da venerdì. L'obiettivo della regione è sottoporre ad indagine il maggior numero di persone possibile sulla popolazione provinciale di oltre 300.000 abitanti con lo scopo di individuare soprattutto i positivi asintomatici. Noi stiamo aspettando che ci danno comunicazione nella contezza dei tamponi tra giovedì e venerdì partire intanto con quelli che abbiamo anche perché oggi finirà la gara per l'acquisizione degli ulteriori tamponi necessari per l'effettuazione dei test in maniera tale che andremo a calendarizzare in maniera più dettagliata le fasi di intervento sul nostro territorio. La campagna gratuita andrà avanti per circa due settimane e coinvolgerà oltre alle istituzioni anche le associazioni di volontariato della protezione civile. Se lo dobbiamo fare bisogna fare un lavoro soprattutto cercare di scoprire la sintomatica e soprattutto farlo di massa ma anche catalizzare l'attenzione su alcuni aspetti delle scuole ad esempio gli uffici pubblici e le forze armate. Ecco noi vogliamo fare anche questa attività ulteriore. La ASL metterà tutte le strutture di drive-in che già ha attrezzato per poter effettuare questi test per il resto saranno i comuni che dovranno organizzarsi mettendo a disposizione luoghi e organizzazioni. Quello che è fondamentale è che i cittadini recepiscano l'importanza di questo test che soprattutto serve per andare a scovare chi è asintomatico anche perché diverse figure non potranno realizzarlo. Nell'informativa ci sono scritte tutte le figure che potranno fare i test che noi entro oggi massimo domani pubblicheremo in tutti i siti aziendali della protezione civile dei comuni in maniera tale che questi moduli possano essere anche scaricati online e riempiti già prima di presentarsi a fare il tampone. Ma lo sforzo sarà enorme però devo dire che già gli ordini ci hanno comunicato questa mattina che ci sono buone adesioni, l'adesione è buona e questo ci fa ben sperare. È chiaro che c'è uno sforzo soprattutto da parte dei sindaci e della protezione civile noi da parte nostra dovremo gestire tutta la parte sanitaria ma lo sforzo ci sarà, sarà importante però ne vale la pena ne vale la pena perché andremo a cercare quei positivi e asintomatici che possano rappresentare un momento di diffusione del virus all'interno della nostra provincia. All'Aquila sono stati scoperti diversi tanti asintomatici positivi e questo è il nostro obiettivo e quindi l'invito ai cittadini a partecipare fa bene alla persona, fa bene alla comunità e quindi è un'occasione da non perdere.